La sala era originariamente la mensa degli ufficiali posti a guardia del re. Venne trasformata alla fine degli anni Sessanta del Settecento per diventare cappella del palazzo dedicata al santo protettore della caccia e dei cacciatori. L'architetto Ignazio Birago di Borgaro fornì nel 1767 i disegni per l'altare marmorio di Sant'Uberto, cui è dedicata la pala dipinta da Vittorio Amedeo Rapù, 1768. Fece anche ricoprire dal pittore Giacomo Borri con una partitura architettonica una parte della volta giudicata indecorosa al nuovo uso per la presenza di una diana seminuda, affrescata al tempo di Juvarra da Girolamo Mengozzi Colonna e da Giovanni Crosato, 1733. Di quell'opera rimangono le fresche raffigurazioni di fanciulle e cacciatori e le architetture prospettiche. I grandi dipinti monocromi alle pareti e alleante dell'altare con giochi di putti sono del rivolese Ignazio Nepote con Gaetano Perego, 1770-71. Sant'Uberto, vescovo di Liegi, 656-727, nel corso del Venerdì Santo e durante una battuta di caccia, ricevette la visione del crocifisso tra le corna di un cervo, che lo indusse ad abbandonare la vita mondana e a convertirsi. La festa ricorre il 3 di novembre. L'intero apparato decorativo è stato restaurato recentemente, riportando equilibrio e splendore di colori e visione. Grazie a tutti.